Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Minecraft e quest'oggi vedremo tanti nuovi TikTok fenomenali e soprattutto ve li presenterà il vostro imperatore, Kendal. Mi raccomando lasciate un mi piace se non l'avete ancora fatto e soprattutto iscrivetevi al mio canale se siete nuovi. Qualche giorno fa vi ho fatto vedere una cosa, una curiosità di Minecraft molto interessante che è se spawni un gatto sopra la casa di una strega uscirà sempre, sempre nero. Questo soltanto sulla casa della strega ovviamente, quindi se lo spawno qua vedete che hanno diversi colori. E quindi ho pensato e se faccio accoppiare due gatti normali di diverso colore sopra la casa della strega il cucciolino sarà tutto nero? Proviamo immediatamente, prendiamo del merluzzo, togliamo, ok, e anche te, perfetto, benissimo, e adesso accoppiatevi. Vediamo, vediamo, nascerà nero, no, uuuu, interessante. Quindi abbiamo trovato il modo di fregare le regole di Minecraft. Per quest'altro TikTok dobbiamo spostarci nel Nether. Allora, sinceramente mi sembra veramente assurdo, però l'ho visto, qualcuno ci è riuscito, e quindi sono curioso, voglio vedere se può funzionare. Beh, perché non va? Ehi, cioè ragazzi, ehi, ci dovrebbe essere il Nether qua. Raga, scusate, che strano bug. Beh, riproviamoci, entriamo nel Nether. Nel frattempo che io faccio il portale voi lasciate un mi piace, mi raccomando. Ok. Ma che cavolo sta succedendo? Ma scusa? Ma che ci piglia oggi al Nether? Scusate. Beh, comunque, ce l'abbiamo fatta, siamo dentro il Nether. Allora, a quanto pare, se prendi della DERTH e poi un girasole, quindi SUNFLOWER, questo qua, e adesso ripiazzi così, ecco, se vedi la direzione in cui il girasole sta guardando, tecnicamente dovresti riuscire a trovare una fortezza. Quindi la direzione è questa. Proviamo ad andare dritti e vediamo se troviamo la fortezza. Non mi sembra che stia funzionare. Oh! Non ci posso credere. Cioè, ragazzi, guardate. Per farvi vedere che non vi sto prendendo in giro. Ora torno dritto, torno indietro, punto. Visto? Il girasole è qua. Vado dritto, dritto, dritto. Non faccio nessun taglio, vado sempre dritto. Porca miseria. Ok, si deve renderizzare il mondo, però. Dritto, dritto, dritto. Ed ecco la fortezza. Speedrunners di tutto il mondo. Utilizzate questo trucco se volete trovare la fortezza, immediatamente. Ok, allora, quest'altro TikTok mi sembra un pochettino impossibile, sinceramente. Però, effettivamente non ci ho mai provato. Quindi vale la pena provare. Perché nel video che ho visto io funzionava. Quindi puoi mettere del ghiaccio nel nether. E, ovviamente, se poi usi tipo il flint and steel oppure della lava, il ghiaccio si scioglierà. Si dovrebbe sciogliere, tecnicamente. E dovrebbe uscire l'acqua. Cioè, ragazzi, quando l'ho visto io ho pensato non è possibile. Perché credevo non si potrà piazzare il ghiaccio. Invece, a quanto pare, si può piazzare. E sappiamo bene tutti quanti che il ghiaccio prima o poi si scioglie. Quindi dovrebbe sciogliersi. Soprattutto se circondato dal fuoco, no? Ora si scioglie per forza, no? C'è della lava. Non si scioglie. Cioè, è impossibile sciogliere... Oh! Ok, si è sciolto ma non è uscita l'acqua. Non ci posso credere. Sono stato fregato un'altra volta. Ma prima di darci per vinti, riproviamoci in Minecraft Bedrock Edition. Perché comunque sapete bene che sono due versioni totalmente differenti. A volte delle cose vanno in una e non vanno nell'altra. Si torna nel nether. Oh, tra l'altro sono spuntato di nuovo nello stesso bioma dell'altra volta. Ma vabbè, ok. Quindi vediamo. Mettiamo il nostro ghiaccio qui. E il fuoco qua accanto. Io effettivamente il TikTok l'avevo visto su Bedrock Edition. Quindi magari adesso funziona. Vediamo. Uscirà dell'acqua da questo ghiaccio? Oppure sarà un flop totale come quello di prima? Ah, qua il fuoco tra l'altro non si può mettere sul ghiaccio. Invece su Java sì. Oh, più caldo di così proprio non può fare. Beh, sembrerebbe che questo TikTok non stia funzionando. Oh, mentre mi stavo proprio per uccidere ed è sparito il ghiaccio. Allora, questo mi sembra assurdo sinceramente. Però proviamo. Prendiamo delle pozioni. Tipo salute istantanea, poi rigenerazione e salto potenziato. Mettiamo tre calderoni in questo modo. E li riempiamo con ogni pozione. Ok? Questa è una cosa che si può fare solo su Bedrock Edition. A quanto pare se prendi una freccia normale, quindi una freccia così, e la inzuppi dentro il calderone, questa freccia uscirà con gli effetti delle varie pozioni. Non ci posso credere. Funziona veramente? Fermi tutti. Fatemi prendere delle altre frecce. Cioè, quindi ora mi uscirà freccia di rigenerazione. Oh mamma. E freccia di jump boost. Oh mamma. Che figata. Funziona veramente. Questo qua è molto interessante. Allora, prendete dei binari di Minecraft e li mettete in questo modo qua. Guardate. Così. 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 Anzi, facciamolo un po' più largo, dai. Così. Perfetto. Adesso voi vi mettete al centro di questi binari. Cambiate il tempo in notte. E prendete degli zombie. Delle uova di zombie. Li mettete tutti qua attorno. E a quanto pare loro non riusciranno ad attaccarvi. Ma che cavolo. Ehi. Ma. Ma nel TikTok che ho visto io non riuscivano a superare i binari. Erano tipo bloccati. Ok. Invece. Sì. Ce la fanno. Mi sembrava strano in effetti. Quest'altro TikTok sembra veramente bellissimo. Abbiamo bisogno di un pistone. Chiaramente anche una leva. Una cesta. E delle librerie. Adesso creiamo un muro come se fosse appunto la parete di una biblioteca. E mettiamo in questo modo tutte le librerie. Così. E adesso vi svelo un piccolo trucco per prendere dei libri dalle librerie. Non dovrete fare altro che mettere la cesta qua dentro. Con dei libri qualsiasi. Potete mettere quello che volete. Dopodiché. Pistone appiccicoso. Libreria. E non funziona. Perché? Ma no. Dai. Quello che avevo visto io funzionava. Era bellissimo. Se questo non funziona ci resto male. Dobbiamo fare un muretto di 3x4. Poi prendere delle fence. Così. Come se stessimo creando una specie di altalena. E l'attacchi così. Dopodiché. Una barca. Un guinzaglio. E dobbiamo fare questa stregoneria qui. Io non vedo come possa funzionare sinceramente. Però già il fatto che sono riuscito ad attaccare la cordicella. Con la barca. È positivo. Ok. Così forse è meglio. Vediamo. Ok. Perfetto. Adesso dobbiamo scavare. Tutto qua attorno. Profondo 2. Dopodiché blocchiamo la barca in questo modo. E prendiamo un pistone. Con della redstone. Così. Perfetto. Spingi giù questo. Togli la redstone. Ne metti un'altra. Spingi. Ok. Deve praticamente arrivare fino a giù. Per terra. Ok. Ora puoi togliere tutta questa roba. Chiudiamo tutto il resto. Così. E togliamo questo e questo. Questo blocco invece di sabbia delle anime lo lasciamo qua. Adesso ci servono dei dispenser. Dei secchi d'acqua. E dei secchi vuoti. Quindi mettiamo i dispenser in questo modo. E li riempiamo d'acqua. Dopodiché riempiamo questi qua di secchi vuoti. E mettiamo della redstone qua dietro. Così. Oh mio Dio ha funzionato. I secchi vuoti hanno assorbito l'acqua. E adesso questa cordicella è diventata una fune per scalare il muro. Guardate. Mi metto in modalità sopravvivenza. Siete pronti? Guardate. Wop. E vabbè. Se avessi messo un dispenser anche là sarei riuscito ad arrivare oltre. Beh. A questo punto non mi costa nulla. Mettiamo il dispenser. Mettiamo il secchio vuoto. E vi faccio vedere che appunto funziona. Mettiamo la redstone. Guardate. Wop. Oh mio Dio. Un ascensore in vanilla. Per quest'altro TikTok abbiamo bisogno di due montagne. Esattamente come questa qua. Mettiamo delle catene di ferro tra una montagna e l'altra. In modo da creare una specie di fune. Mi raccomando assicuratevi che siano ben connesse. Quindi da qua fino a là. Adesso scavate un buchetto così. E mettete qua dell'acqua e poi una trapdoor. Dopodiché entrate. E adesso non dovrete fare altro che nuotare. E adesso tecnicamente. Wow. Ha funzionato. In pratica se ti trovi in posizione di nuoto quindi. Non così. Così sto volando. Devo nuotare. Ok. Guardate. E. Ehi. Ma perché non ha funzionato questa volta? Oh ragazzi vi giuro l'ho visto e ci sono anche riuscito poco fa. Però non ci sto più riuscendo. Così. Niente. Beh e quindi questo funziona a metà circa. Ma in compenso adesso vi farò vedere. Lo sparatappeti 3000. Allora tutto ciò che ci servirà sarà un pistone appiccicoso. Una leva della pietra per attivare il pistone. E facciamo così. Guardate. Siete pronti? Mettiamo qua questo. Questo così. Attiviamo il pistone. Adesso ci serve un tappetino di qualsiasi colore. Noi lo prendiamo rosso perché è più bellino. Così. Poi mettiamo due blocchi di slime qua. E infine un observer qua. Esattamente in questa direzione. Siete pronti? Guardate la magia ragazzi. Lo sparatappeti 3000. Ok. Non serve assolutamente a nulla. Però è divertente. Cioè in realtà no no no. Aspetta aspetta. In realtà qualcosa serve. Così li stiamo sdoppiando. Cioè. Se a voi dovessero servire dei tappeti infiniti. Anziché spercare tanta lana. Vi basterà mettere un solo tappeto su questo macchinario. E avrete dei tappeti infiniti. Beh ragazzi. Io spero che questo video di TikTok vi sia piaciuto. Mi raccomando. Lasciate un super mi piace. Provateli anche voi se non mi credete. Nel vostro mondo di Minecraft. Dal vostro Kendall è tutto. E noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao.